Anticipare la zona bianca e questa la richiesta del presidente della regione Marsilio al ministro della salute Speranza. In una lettera il governatore chiede che l'Abruzzo entri nella fascia di restrizioni minime già a partire dal prossimo lunedì, il 31 di maggio, piuttosto che attendere il 7 giugno come già annunciato da Roma. Nella zona bianca sparirà il coprifuoco e rimarranno le sole regole che riguardano i comportamenti come quelle sull'utilizzo della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale. L'Abruzzo ha un'incidenza del virus inferiore ai 50 casi ogni 100.000 abitanti, sottolinea Marsilio, e inoltre nella scorsa settimana si è registrata una significativa diminuzione della pressione sugli ospedali e le relative terapie intensive. Nel caso in cui il ministro non assecondasse la richiesta di zona bianca per l'intera regione, conclude Marsilio, allora le restrizioni spariscano dal 31 maggio, quantomeno per la sola provincia di Pescara. Nel Pescarese infatti da ormai molte settimane l'incidenza del virus è tra le più basse di tutta Italia. Intanto oggi sono 15 nuovi positivi al covid in Abruzzo, hanno un'età compresa tra 5 e 86 anni e di questi 9 sono residenti in provincia di Chieti, 3 in quella dell'Aquila, 2 nel Pescarese e 0 nel Terramano. Uno dei contagiati invece proviene da fuori regione. E' quanto emerso dall'analisi di 1.298 tamponi molecolari, per un tasso di positività poco superiore all'1%. Oggi registrato un ulteriore decesso. Avvenuto però nei giorni scorsi e con gli ultimi 73 guariti, attualmente in Abruzzo sono 5.908 e positivi accertati, 59 in meno rispetto a ieri. Di questi 183 pazienti, 5 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica. 17 sono quelli in terapia intensiva, nessun nuovo ricovero covid in rianimazione nelle ultime 24 ore. Mentre gli altri 5.708 positivi accertati, 68 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL.